Ciao ragazzi, studiamo la convergenza in x uguale a 0 dell'integrale tra 0 e 1 di e alla x per 1 meno cos x fratto x per logaritmo di 1 più x alla n in dx. Per farlo consideriamo la funzione integranda e applichiamo i criteri asintotici in x uguale a 0. E alla x è equivalente a 1. 1 meno cos x è equivalente a x quadro mezzi. Riportiamo x e logaritmo di 1 più x alla n è equivalente a x alla n. Questa frazione è uguale a un mezzo per 1 fratto x alla n meno 1. L'integrale è allora convergente se questo esponente n meno 1 è strettamente minore di 1, cioè n minore di 2. Ciao!